Gentili telespettatori, buona giornata. Le opposizioni dicono che è intollerabile che la Meloni scelga il giudice che ha scritto il premierato. Pensate un po', il giudice che ha scritto il premierato. Quel premierato che voleva la sinistra con D'Alema oggi è diventato una cosa che non puoi neanche più pronunciare. Il giudice che ha scritto il premierato. Mamma mia! Allora che cosa è successo? Domani c'è il voto in Parlamento per eleggere un giudice costituzionale. La Meloni chiede ai suoi parlamentari di presentarsi tutti in Parlamento per votare quello che il governo vuole mettere come giudice costituzionale. Dov'è il problema? C'è una votazione in Parlamento dove in Parlamento il centrodestra ha la maggioranza e quindi in una votazione in Parlamento dove il governo ha la maggioranza, secondo voi, se si elegge un giudice della Corte Costituzionale in Parlamento dove il governo ha la maggioranza, evidentemente il governo farà eleggere il giudice che vuole. Si chiama democrazia, si chiamano elezioni, chi vince le elezioni probabilmente vince anche nelle votazioni, chi perde le elezioni è rassegnato a scrivere su Facebook delle fesserie e basta e a votare in Parlamento. No, 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 ma non serve a niente perché se la maggioranza è maggioranza, la minoranza, quelli che hanno perso le elezioni per cinque anni possono stare a guardare per aria. Si chiama democrazia o la democrazia è solo quando vince le elezioni la sinistra, quando le perde a loro dittatura? Che livello, mamma mia, mamma mia come state, state proprio maluccio. PD e AVS intenzionati a non partecipare al voto 5 stelle in forza, avete capito? Cioè se c'è una votazione democratica in Parlamento dove sanno di perdere perché sono le minoranze, le opposizioni, cioè quelli che hanno perso le elezioni, allora dicono io allora io non ci gioco. Come? No, io non ci gioco, non ci gioco più, basta. No, come i bambini, io non ci gioco, io non partecipo. E allora non partecipate più, statevene a casa, è inutile andare in Parlamento a votare perché siete minoranza, non avete possibilità di vincere in una votazione perché siete quelli che avete perso le elezioni. Allora se non volete partecipare al voto, io non ci gioco, ma statevene a casa sempre, così evitiamo perdite di tempo. Il giudice fatto in casa, ancora. Opposizione in rivolta, oh mamma mia. Scontro maggioranza-opposizione perché la maggioranza vince una votazione perché ha vinto le elezioni ed è maggioranza. E allora le opposizioni non ci stanno. Io non ci sto. Eh sì. Spiegatemi cosa vuol dire la rivolta delle opposizioni dove si vota in democrazia e loro sono minoranza perché hanno perso le elezioni. Eh, a belli, no? Uè, a belli. Dall'altra parte scrivono le cose importanti su Whatsapp e voi vi rivoltate perché c'è la democrazia. Mi sembra che da tutte e due le parti, tra quelli che scrivono su Whatsapp e voi che vi rivoltate per la democrazia, dico io, ma sta classe politica, ma come sta messa? Ma ce la fate? Ma dico io, ma come è ridotta l'Italia? È ridotta con una classe politica che si rivolta perché c'è una votazione democratica e gli altri che cercano la talpa perché scrivono i messaggi su Whatsapp a centinaia di persone anche della vecchia legislatura con anche i collaboratori. Oh Santa Cleopatra, come diceva nel film di Benigni, eh? Santa Cleopatra. E così si parla di Francesco Saverio Marini che sarebbe un consigliere giuridico della Presidente del Consiglio e pensate un po', inaccettabile, autore materiale della riforma sul premierato. Maron, Maron, fanno eleggere l'autore materiale della riforma sul premierato. Un vulnus alla democrazia. Quindi per le opposizioni, cioè le minoranze, se la maggioranza fa eleggere democraticamente una persona di fiducia, è un vulnus alla democrazia. Va bene. Dice indignato un costituzionalista, che schifo sta democrazia, questo governo che elegge chi vuole con delle elezioni democratiche, mamma mia, che schifo, che indignazione la democrazia, dicono a sinistra quando le cose non gli vanno bene perché hanno perso le elezioni. Disertare l'aula, ma soltanto dopo aver tentato di intervenire e spiegare perché è del tutto inammissibile. Ancora non l'ho capito perché è inammissibile una votazione democratica, eh? Eh, ma è un amico della Meloni. Eh, e allora? Eh, ma è inammissibile. Perché? Ma... E pensate cosa dice la minoranza? Loro hanno la supremazia numerica. Eh, hanno vinto le elezioni. Hanno vinto le elezioni. Hanno la supremazia numerica. Ecco, la maggioranza dei voti adesso la chiamano la supremazia numerica. Vi fa paura, eh? Supremazia numerica vi fa tanto balcone di Palazzo Venezia. Italiani? Supremazia numerica. Che paura! Ma soprattutto sceglierne uno fatto in casa. La maggioranza sceglierà un giudice fatto in casa. Eh, caspita! A volte ci sono dei giudici anche di destra. Eh, non vi quadra a sinistra che ci siano dei giudici fatti di destra, vero? Voi siete abituati ai processi, eh? Che stiamo vedendo. Pertanto, quando c'è un giudice di destra, dite com'è possibile? C'è qualcosa che non quadra. I giudici devono essere tutti di sinistra, no? E così ieri i frenetici scambi PD, 5 Stelle e AVS che hanno detto non è possibile, una strategia antimeloni, si sono fatti il giudice in casa, hanno la maggioranza dei voti! E allora vogliono uscire dall'aula, vogliono dire noi non ci giochiamo più. Gne 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 gne. Mamma mia che politica! fate paura! Paura da quanto siete di livello così basso! Fate veramente, veramente paura! Grazie a tutti! La supremazia numerica! Arrivederci a tutti! Arrivederci anche alla supremazia numerica! Mamma mia!